Men's Fashion Group, l'accordata Pacenti con i Bulgari Rich Mart sarebbe ad un passo dall'assegnazione provvisoria della Cantarelli, storica azienda tessile a retina con sedia a Terontola. Il commissario Leonardo Romagnoli avrebbe concluso la gara passando così la palla al Ministero ma ancora non c'è nulla di ufficiale. Dopo l'assegnazione provvisoria la procedura in qualunque caso prevede un'ulteriore minifase di possibile rialzo e il confronto con le organizzazioni sindacali per arrivare così alla giudicazione. Intanto i sindacati hanno chiesto la convocazione del tavolo della crisi alla prefettura di Arezzo per fare il punto della situazione e il prefetto Clara Vaccaro si sarebbe già attivata convocando anche il commissario Romagnoli. Le richieste sono sempre le stesse, cioè la necessità che non tanto noi come organizzazioni sindacali quanto le persone che sono coinvolte in questa vicenda hanno di sapere quale sarà il loro destino positivo, negativo o comunque quale potrà essere lo sviluppo di questa vicenda in termini di mantenimento dell'occupazione piuttosto che di estensione anche temporale degli ammortizzatori sociali. Ci sono dei lavoratori che stanno portando avanti il lavoro corrente e molti lavoratori sospesi in cassa integrazione per la quale è stata formulata una richiesta di proroga fino alla metà del mese di marzo 2018. Quindi sentiamo forte il bisogno di capire, una volta definita la partita della cessione, in che termini gli ammortizzatori sociali conservativi, cioè col mantenimento del legame con l'azienda, possano essere ancora nei prossimi mesi utilizzati. L'azienda è un'amministrazione straordinaria, dal 2015 conta 250 addetti di cui 100 in cassa integrazione, attualmente è presente a Firenze a Pitti Uomo. L'auspicio è il solito che la presenza dell'azienda e del marchio a un evento così importante possa continuare a tenere viva l'attenzione sulla qualità del prodotto e testimoniare come questa azienda possa ancora dire qualcosa nell'ambito della moda.